Internet non è il futuro, internet è il presente e in questa serata, in questo pomeriggio, io vorrei che non parlassimo di come può essere internet utilizzato dai partiti per essere meglio eletti, ma prima di tutto come può essere utilizzato internet per il buon governo, perché solo dopo che qualcuno ha dimostrato di saper utilizzare lo strumento per il beneficio delle persone, dei cittadini è allora che si può arrogare il diritto di utilizzare quello stesso strumento per farsi rieleggere. Quindi vediamo questa cosa con tre semplici argomenti. Obama sta facendo una transizione estremamente rapida che si basa sulla capacità di eccellere, la capacità di attrarre l'eccellenza e di implementarla velocemente. Il sito per esempio change.gov.gov non implementava tutti gli stessi principi che la piattaforma elettorale di Obama prometteva e nell'arco di tre giorni è stato cambiato l'impostazione. Tecnicamente prima era copyright e dopo è stato Creative Commons Attribution Only per chi mi segue. Spendiamolo loro. Creative Commons è una forma di copyright flessibile introdotta da Professor Lessig, peraltro Professor Lessig, uno dei consulenti anche della campagna. E Lessig, Timo Riley ed altre persone hanno iniziato un gruppo di cui anch'io faccio parte esattamente un anno fa che si chiama Open Government Working Group, cioè il gruppo di lavoro per la libertà di governo, per l'apertura di governo e la libertà dei dati pubblici soprattutto. Tra l'altro l'unico regolamento che Obama vuole mettere in legge relativamente a Internet è quello cosiddetto della neutralità della rete che praticamente è la legge che garantisce che non ci sia regolamento di Internet. Per quanto riguarda la libertà dei dati pubblici questo si basa non su qualcosa di molto recente perché la legislazione non necessariamente nasce dalla tecnologia ma da principi anche più fondamentali. La cosiddetta legislazione FOIA, Freedom of Information Act, negli Stati Uniti riceve circa un milione e mezzo di richieste all'anno per la trasparenza degli atti governativi federali. In Italia, e questo è il sito oggi, non nel 1994, del Parlamento, chi era online nel 1994 lo riconosce perfettamente, è lo stile Netscape quando è uscito il primo browser del mondo. La legge corrispondente al FOIA è il numero 152005 e ci unisce in buona compagnia in base ad una valutazione di 86 paesi in questa legislazione con il Nepal. Perché per fare le domande su come funziona il governo, come funziona l'amministrazione pubblica, bisogna giustificare la richiesta e questa giustificazione può essere inappellabilmente respinta e quindi il governo può dire ai cittadini non ci interessa farvi sapere come funziona. Prima di venire qua sono andato dietro l'angolo all'ufficio pubblicazioni della Camera Questa l'insegna, non c'è scritto che è l'ufficio pubblicazioni della Camera Avete capito perché abbiamo tenuto Davide Orman in fondo così andiamo quando ci sia il momento pochino Davide accende Ho comprato questo, il regolamento della Camera che è disponibile anche online Ho chiamato l'ufficio per chiedere quali sono le libertà collegate a questa pubblicazione visto che c'è scritto Copyright 2007, Camera dei Deputati Perché evidentemente la Camera ha bisogno di sfruttare quelli che sono i diritti d'autore relativamente a questa pubblicazione, si deve far valere questi diritti Sono stati molto efficienti Mi hanno dato il numero dell'avvocatura dello Stato dove ho parlato con una persona estremamente competente Questo documento è disponibile in versione scaricabile però siccome è Copyright Camera dei Deputati nel momento in cui lo scarico viola la legge per definizione la Camera mi induce in un atto che è stato criminalizzato dalla legge Urbani Allora, quello che mi è stato detto è che non c'è problema, nel momento in cui volessi chiarire questa posizione perché magari lo voglio mettere sul mio sito perché i miei amici possano scaricarlo basta che io faccia domanda scritta e mi verrà risposta velocemente, perché la Camera lavora velocemente Allora ho chiesto e se riguardasse le leggi? Corte di Cassazione o altre? E mi è stato detto, beh, là non so dire quanto velocemente lavorino Magari fa meglio chiamare direttamente le società che fanno già pubblicazioni relativamente alla raccolta di leggi così loro le sanno dire come hanno fatto Siccome tutta la piattaforma che abbiamo visto finora si basa su quello che è il concetto di mashup cioè di prendere dati già disponibili già pubblici, che già appartengono al popolo e riutilizzarli se è questa la maniera farraginosa ottocentesca borbonica con cui funzionano le cose nel 2008 dove siamo in una sala dove non c'è collegamento internet noi ci stiamo collegando di straforo e come è possibile pretendere che si possa abbracciare il futuro Perché in realtà di soluzioni ce ne sono già anche in Italia ma fanno talmente fatica questo che vedete è OpenPolice una piattaforma open source che chiunque può utilizzare gratuitamente per censire i programmi e le azioni dei politici ma queste iniziative non possono svilupparsi se non cambia non penso che possa cambiare la mentalità se non cambia la generazione dei politici attuali Quanti di voi hanno visto ieri questo dato? è uscito dall'Eurostat questo dato terrificante questo dato terrificante l'Eurostat che è la fonte più autorevole di informazioni sui paesi dell'Unione Europea più tre paesi europei all'fuori dell'Unione ha pubblicato un pdf di due pagine in cui risulta che dai 70-80% di penetrazione nelle famiglie nei paesi scandinavi hai 60-70 franci, germani, inghilterra hai 50 erotti eccetera eccetera l'Italia è il terzo ultimo quarto ultimo posto davanti a Bulgaria e Romania ma è l'unico paese in cui la penetrazione internet dal 2007 al 2008 è diminuita ed è una cosa da inorridire grazie 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 grazie